Non ha ancora la nomina ufficiale ma già lavora da coordinatore cittadino di Forza Italia, Giuseppe Fiumanò. Dopo la dichiarazione a Giarre di Francesco Cardillo, che ha istituito il gruppo consigliare, non ci sono stati ulteriori sviluppi. Fiumanò però ha i nostri microfoni e un fiume in piena. Il compito che noi ci stiamo assumendo è un compito molto gravoso. Siamo in Sicilia dove il nuovo centrodestra ha il leader nazionale Angelino Alfano e poi c'è un sottosegretario, l'onorevole Castiglione, a Giarre c'è il senatore Pagano. Ovviamente questo comporta un problema per noi che chiaramente dovremmo cercare di risolvere aggregando il più possibile le persone. Io però dico questo, al di là del fatto che lei ritiene che non ci sia stato entusiasmo, l'entusiasmo non c'è stato perché sino ad oggi il partito non si è rivelato. Però tantissime persone mi hanno contattato perché si vogliono avvicinare a Forza Italia, anche consiglieri comunali. Credo che nel prossimo futuro ci saranno anche delle novità in Consiglio Comunale. Credo che il gruppo consigliare di Forza Italia probabilmente nel prossimo futuro sarà implementato. Poi per quanto riguarda la nostra attività, io ricordo sommessamente che il nuovo centrodestra oggi non è il vecchio PDL, nel senso che da sei oggi sono quattro. Gli altri due, uno ha fatto una dichiarazione chiara e netta di appartenenza a Forza Italia, l'altro si è dichiarato indipendente. Però non è nel nuovo centrodestra. Orazio Scuderi verrà in Forza Italia secondo lei, visto anche il rapporto stretto che avete? Sì, con Orazio Scuderi abbiamo un colloquio continuo e molto più vicino a noi che al nuovo centrodestra ovviamente. Riteniamo che fra l'altro questa idea del nuovo centrodestra è un'idea profondamente sbagliata. Perché sbagliata? Perché io ricordo a me stesso, ma ricordo anche a chi ci ascolta, che c'è stato un momento in cui il PDL era diretto dall'attuale ministro dell'interno Angelino Alfano. Ed è proprio in quell'occasione che il PDL è sceso al massimo storico del 12%. Abbiamo perso le amministrative in tutta Italia, nella primavera 2012 abbiamo perso la presenza della regione siciliana, con Angelino Alfano, coordinatore nazionale del PDL. Oggi io non ritengo che sia un qualcosa di vincente stare nel nuovo centrodestra. Tra l'altro, dico, vero è che la gratitudine non è di questo mondo e neanche mai in politica. Però mi è sembrato grave abbandonare il presidente Berlusconi nel momento di maggior bisogno. Considero infine, questa è una mia considerazione, se oggi noi abbiamo un parlamentare a Giarre, questo si deve esclusivamente alla discesa in campo del presidente Berlusconi. Che da solo è riuscito a ribaltare ogni pronostico, è riuscito a vincere da solo il premio di maggioranza al Senato in Sicilia. A quest'ora Giarre non avrebbe il parlamentare nazionale.